eccoci qua col nuovo iphone 12 pro attenzione questi sono i vari componenti accessori cominciamo con il telefono non è mio quindi segue i suggerimenti ma no attenzione ci ruotiamo eccoci qua apriamo vediamo se non si rompe eccoci qua nuove finiture presenta molto molto bene questo accende accendilo vediamo se è originale se contrappatto la pellicola sopra io non ce la metto mai però danno come molto resistente anche il vetro tutta la scotta a te abbiamo la custodia tanto no già pronto apriamo la custodia trasparente giusto che hai ordinato te che ho ordinato io non per me però l'ho ordinata io facciamola vedere a tutti ecco la parte che poi va agganciarsi al magnetici è flessibile ma pensavo che se mi rigida 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 ci mettiamo subito così evitiamo perfetto e questo è il telefono blu nuovo con la sua custodia a questo punto apriamo anche il bag save se spacchiamo tutta probabilmente c'è il metodo che era questo tanto non ti serve la custodia istruzioni anche abbastanza semplici da leggere eccoci qua il cavetto e il magneto un po' senza distruggere tutto se si riesce a toller d'acqua senza tirare il filo soprattutto ecco qua sembra quello del dottore questo è l'ultimo accessario ci rimane solo la carta qua benissimo ok no 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 non ok se